buongiorno a tutti allora sempre con il ranteghino perché il ranteghino è bello alla gasparini alla gasperini c'è questa bella letterina creata da una ragazza italiana che francamente ha fatto venire i brividi a chi l'ha postata su facebook e francamente anche a me comunque inizia scusate sono sandro ciotti dall'olimpico sempre grazie grazie caro signor macron cara signora merkel grazie per averci abbandonato nel momento del bisogno grazie per averci negato di poter acquistare da voi semplici mascherine ed altri prestidi medici atti a combattere la diffusione del virus le avremo pagate sapete siamo italiani quelli sporchi chiassosi indisciplinati buffi folcloristici poveri e talvolta mafiosi ma siamo anche quelli che vi hanno costruito le strade le scuole vi hanno insegnato l'alfabeto che usate spiegato le leggi il diritto l'organizzazione dello stato e la di quello di diritto siamo noi gli italiani gli autori delle opere che riempiono i vostri musei dei testi che studiate delle invenzioni che usate quelli che con enormi spese e sacrifici si trovano a dover conservare e gestire ben oltre il 70 per cento del patrimonio culturale ed artistico mondiale chiedendomi una cifra irrisoria per il biglietto dei musei e talvolta neppure quella siamo noi gli italiani siamo quelli che vi hanno offerto l'arte e la cultura su cui si basa la nostra e la vostra civiltà la massima espressione di bellezza armonia equilibrio che l'essere umano abbia mai raggiunto siamo noi gli italiani che prima vi abbiamo offerto la civiltà che poi voi avete abbattuto trascinando il mondo nel medioevo e poi una volta risollevati e rinati abbiamo nuovamente offerto al mondo la civiltà l'arte la geografia l'economia l'istruzione siamo noi gli italiani quelli che hanno creato il parmigiano la mozzarella il prosciutto la mortadella il salame i ravioli i tortellini le lasagne il gelato la pizza eccetera 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 quelli che hanno portato in francia le vigne e che vi hanno insegnato a fare il vino la grappa i distillati quelli che ogni anno combattono contro i vostri tentativi di scimmiottare i nostri prodotti e copiarne il nome ma anche lo stile e la moda anche a lei signor trump e a lei signor johnson grazie per averci prima di tutto isolati invece che aiutati le ricordo signor trump se non fosse per un italiano adesso sarebbe nella terra dei suoi avi a fare la fame e non in america fare riccone e non avrebbe neppure potuto mangiare patate perché non le avreste mai avute senza un temerario italiano che ha navigato verso l'ignoto a lei signor johnson ricordo che la fortuna della sua nazione si basa su una bandiera che vi abbiamo concesso di sare sulle vostre navi per non essere attaccati dai pirati la croce di san giorgio concessa dalla repubblica di genova senza quelle sareste stati spazzati via dai saraceni vi abbiamo insegnato la navigazione l'avete imparata bene a tutti voi quando telefonate pensate a meucci quando guardate la tv o ascoltate la radio pensate a marconi quando usate l'energia elettrica come non ci fosse un domani pensate che non avreste potuto farlo se non ci fosse stato fermi noi italiani abbiamo inventato le banche le università la prospettiva l'architettura l'ingegneria l'astrofisica il calendario la musica oltre alle altre innumerevoli cose erano italiani giotto colombo marco polo leonardo michelangelo bernini tiziano raffaello brunelleschi galileo cesare ottaviano vespasiano aurelio dante e potrei continuare per ore carissimi miei nel sentire il nome italia dovreste scattare in piedi abbassare la testa ed essere coscienti che l'origine della società occidentale occidentale qui se vi chiediamo aiuto dovreste correre perché se trascinate di nuovo il mondo nel medioevo non so se ce la faremo nuovamente a far rinascere la civiltà se invece non vi interessa allora compiacetevi di quello che avete restate ad ammirare qualche tonnellata di ferro imbullonato e quando visitate i vostri musei per cortesia saltate le opere degli italiani finirete la vostra visita molto velocemente potrete così andare a visitare subito una bella fabbrica di auto diesel magari di quelle che non inquinano solo i controlli andate a visitare quelli che per voi sono castelli e per noi banali ville di cui siamo pieni oppure andate nella capitale dell'azzardo che scimmiota venezia firenze roma andate pure evitate di venire a visitare il paese più bello del mondo visto che l'avete pugnallato alle spalle accoglieremo a braccia aperte a chi nel momento del bisogno ci ha aiutati apreremo le nostre città uniche al mondo a loro potranno visitare venezia roma firenze genova napoli bologna pisa lucca assisi siena torino palermo agrigento milano cremona mantua ferrara la toscana il monferrato le dolomiti le alpi la puglia la sardegna eccetera 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 avete distrutto la povera grecia con la vostra finanza ci avete provato con l'italia ma non ci siete riusciti ora forse avete scorto l'occasione per assestare il colpo finale ma nella cecità del vostro egoismo non avete calcolato che il virus non ha frontiere colpirà tutti anche voi se ci aveste aiutato ieri nel tentativo di originare l'epidemia oggi non dovreste piangere i vostri morti e domani puntini 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 il vostro egoismo ha dato la misura di quanto poco siate grazie credo che questa lettera non abbia bisogno di nessun commento dice tutto quello che teoricamente ogni italiano sta pensando in questo momento naturalmente ogni italiano di buon senso perché quelli che probabilmente il buon senso non ce l'hanno continueranno a pensare a preoccuparsi dei porti aperti e facciamo arrivare gli immigrati chi ha buon senso magari si preoccupa dall'italia di questa bandiera e non di un'altra bandiera che sappiamo benissimo c'ha le stelline de blu che magari è ora di prenderla bruciarla e spedirla detto questo fatemi sapere voi cosa ne pensate e ci vediamo al prossimo video ciao